allora quindi vuoi essere robusto e muscoloso sii minchia allora qua ci vuole tipo no una piccola strada una strada proprio da 300 chilometri da qua arriviamo fino alla norvegia grazie per il complimento allora prima di tutto fai sai fare questo una capriola come nasa ci fa capriolo guarda qua c'è un botto di lavoro da fare esatto perciò chiama l'ambulanza vabbè adesso facciamo un po di flessioni poi dopo puliamo il sangue la terra adesso ti faccio vedere come si fa vai assieme a me 1 2 1 2 1 2 1 2 ok un 2 devo fare fa un po male questa 1 2 1 2 che cazzo minchia è successo mi sono spezzato tutta la colonna vertebrale oddio la mia testa è diventata un elicottero 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 aia minchia più veloce più veloce devi fare una corsetta non la passeggiata su fratta maggiore guarda impara peso lo prendi 1 2 1 2 capito adesso prova tu si dammelo vabbè tanto è leggerissimo questo peso prova con quell'altra mano subito alzalo subito quanto cazzo pesante vai un po più forza ok ci provo ho fatto cacca questo è un po più leggero vai ok va vai è l'ora di andare con vai 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 si è leggerissimo minchia se leggero adesso con quello pesante faccio pure con quello grande mi sa mi sa che questo era troppo grande figlio della mignotto forza dai mangia ste proteine e a che gusto sono ti ho detto magna che cazzo dove cazzo è andato ti ho detto magna ste cazzo di proteine e si con calma stai calma mangia della queen perfetto pausa finita di nuovo allenamento fumo camma forza vai 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 più veloce più veloce più veloce più veloce più veloce più veloce aaaah minchia scusa te lo chiava da nello stomaco mazzata brucia i grassi nelle gambe vai minchia sto bruciando i grassi sto bruciando il culo non ti cagare addosso che dopo pulisci pulisci tu vai ce la puoi fare minchia più veloce più veloce eh no pure le gambe non me le voglio spezzare allora vai continua come stai facendo pur quell'altra minchia tra poco mi alleno pure i muscoli del ca... alzalo alzalo aaaaaaaah minchia ma alzo due chili come fai non saperle alzare infatti lo stavo dicendo perché mi sta venendo uno strappo uno due tre quattro cinque buono buono arriviamo fino a cento cosa cazzo stai dicendo aspetto siamo arrivati a cento minchia è morto di vecchiaia forza vai continua minchia un po' d'acqua un po' d'acqua bevi dopo bevi di sudore ma che cazzo dici minchia fai schifo al cazzo pura batteri fai schifo al cazzo anzi tutta lei forza dai dammi un calzotto tutta la forza che tieni si ma io non lo so il karate dammi un calcio scegli tu vai vado col calcio fai schifo al cazzo grazie small sensei forza distruggi lo scatolo ok dai vai stai migliorando forza vai con le flessioni uno due tre quattro cinque sei arriviamo a cento 98 99 100 vai ce l'ho fatta vai vai sta andando la grande forza vai non piegare le gambe si si ce la posso fare vai vai non ti senti un po' più muscoloso si minchia stanno i braccia che escono dallo schermo tra poco vai quattro chilometri tutti correndo subito vai dove devi ritornare alle mie spalle ci ho fatta vai perfetto cosa cazzo hai fatto ai vestiti eh sono andato ieri dalla gucci eh vabbè non me ne frega un cazzo è arrivato il momento del cazzotto minchia è di spacca adesso vai con tutta la forza che tieni vai oh oh vai minchia porca puttola la mia gamba eh vabbè te la riattacco subito fatto vabbè sai questo che significa visto che mi hai fatto perdere una gamba cosa che sei pronto che pronto basta no nel senso sei pronto sei diventato muscoloso uè Peppe eccomi a casa com'è andato l'allenamento minchia bellissimo sono diventato fortissimo vabbè dai batti il 5 mela sì subito battiamo il 5 cosa cazzo niente è più forte di me un calcio in culo però no in che senso lol ragazzi siete sicuri che volete competere con Ciro sì tanto siamo all'altezza guarda qua che roba che cazzo che cazzo che cazzo vabbè ma il calcio che gli tiro è fatale che cazzo ma che cazzo perché non muore muore adesso è il turno di Ciro no stavo scherzando minchia non mi ha fatto un cazzo no Ciro Ciro dove cazzo Peppe se le spignate allora mela questo picchio a tre no ma ha fatto scelto cazzo abbiamo scoperto chi è l'allenatore di John Cena